Come sottofondo i lavori in via del sale e il referendum sulla strada sud, il Comune continua ad essere impegnato nello studio sulla viabilità. L'occasione è la redazione del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Dopo il monitoraggio del traffico attraverso le spire, sistemate in 57 punti sulle principali arterie e cittadine, da oggi è iniziata una nuova raccolta dati che intende indagare i flussi di origine e destinazione nella quale saranno coinvolti direttamente i cittadini, intervistati da personale autorizzato. Le interviste avverranno anche domani alla stazione ferroviaria e al terminal degli autobus di Via Dante per un'analisi del trasporto pubblico locale. Vi sarà inoltre un'analisi dei dati della sosta nei parcheggi con l'indice di rotazione. Nei prossimi giorni, grazie al supporto della Polizia Locale, le interviste in strada si terranno in otto punti sulle vie d'ingresso ed uscita della città. Un'altra azione per comprendere le necessità e le abitudini dei cittadini e di chi viene in città vedrà la possibilità di compilare un questionario online. Infine, per quanto riguarda il comparto sud, proseguirà l'analisi dei flussi del traffico così da consentire un approfondimento a seguito della modifica della viabilità dovuta al cantiere di Via del Sale. Ad inizio giugno è prevista una prima restituzione dei risultati ai consiglieri comunali della Commissione Ambiente e successivamente agli amministratori, quindi i presidenti dei comitati di quartieri ed altri stakeholders. Grazie per la visione! Grazie.